Il senso che è molto semplice, un giocatore entra, ci sono le consegne da fare, lavoriamo su particolari, su cose, su angoli, su piazzati dove devi stare attento, dove ne devi dare e là diventa, cioè se uno non lo fa paghi. L'importante è, penso, avere le squadre dove hai 20 giocatori che sono dentro completamente, anche nei piccoli particolari, al di là di attaccanti, di difensori, centrocampisti e noi abbiamo mancato in questo, penso, in situazione di terzo gol.